oh bentornati a radio design oggi abbiamo un ospite veramente incredibile ciao a tutti elisa pietrelli con la i attenzione ricordatevelo voi i prossimi studenti perché elisa è attenzione rullo di tamburi possiamo annunciare e la prossima prof di storia dell'arte giusto corregimi se dico corretto storia dell'arte perché elisa insegna storia dell'arte perché un artista vedi finalmente non è come le superiori che di solito che insegna storia dell'arte non lo so cosa altro in questo caso invece proprio le cose combaciano allora elisa chi sei presentati un po la tua storia ok allora io sono ciao io sono nata a terni e sicuramente i fumi dell'acciaieria hanno contribuito al allo sviluppo della della mia creatività ho fatto l'istituto d'arte a terni disegno industriale poi sono passata a perugia e ho fatto l'accademia di belle arti indirizzo pittura e poi mi sono spostata urbino dove ho fatto l'accademia di belle arti indirizzo grafica d'arte e e poi ho partecipato a dei progetti a delle residenze d'artista sul territorio diciamo nazionale un'esperienza che vorrei ricordare è quella con la scuola internazionale di grafica a venezia dove appunto ho vissuto un periodo e è stato bello condividere la creatività ma anche la cultura di lo scambio con gli altri si da tutto il mondo quindi con cinesi australiani tedeschi era erano tutti allegri come te o i tedeschi non ridevano mai no no tutti allegri tutti allegri questo è importante e poi niente ho partecipato a dei progetti in ultimo il progetto di officine fratti con otto altri sette ragazzi otto con me gestiamo questo spazio è un spazio che abbiamo rigenerato nel centro storico della città e lì abbiamo otto postazioni di lavoro ma anche tre sale comune comuni in cui condividiamo con associazioni enti delle attività abbiamo fatto dei laboratori delle presentazioni delle conferenze stampa quindi è uno spazio aperto che gestiamo e abbiamo appena creato un'associazione l'associazione officine fratti grandissima è già andata avvantissimo volevo chiedere artista cosa fai come artista perché adesso io potrei dire cose sono un docente web marketing quindi potrei scivolare facilmente in non lo so dire bagianate sei un artista cosa fai qual è il tuo tipo di arte allora io utilizzo una tecnica è una tecnica rivoluzionata nata nel 1912 con pablo picasso e il collage lo conosco pure io attenzione sono un profano il collage è una tecnica rivoluzionaria appunto perché ti permette di prelevare pezzi della realtà uno differente dall'altro e unirli insieme quindi creare nuove immagini quindi lavoro con questa tecnica che mi ha permesso di esporre in varie città in ultimo sarà la mostra che inaugura il 22 settembre ad Iseo una mostra che si chiama contemporaneamenti Iseo del lago di Iseo lago di Iseo sì fondazione l'arsenale e sarà insomma il prossimo appuntamento espositivo e poi a ottobre inizio questa attività di docente con tantissima felicità con molta sì perché dopo sgarbi dopo giallo d'olfless dopo Argan dopo Gombrich arriva il Pietrelli un manuale di storia dell'arte è un manuale che ha scritto è costruito su 21 lezioni in cui cerco di raccontare il ciclo della produzione artistica dalla preistoria alla contemporaneità però ho fatto un lavoro particolare cioè quello che pur pur partendo e per sviluppando un progetto cronologico inserisco continuamente degli artisti contemporanei noti e meno noti che secondo me però c'è anche il palumbo assolutamente sì non poteva mancare il palumbo sono molto contenta e è stato un duro lavoro di ricerca e di mixaggio appunto lei serissima manca ancora un mese all'inizio già tutto il programma già possiamo iniziare domani le interrogazioni però no e poi contemporaneamente ho inserito anche un'uscita didattica nel piano della programmazione che sarà a Firenze per la mostra di Marina Abramovic che per chi non lo sapesse è quella tizia che ti guarda e poi piange un certo po' spiegato da un profano dicevo che non è solo questo magari prima facciamo un ripasso di chi è Marina Abramovic e poi dove l'arte spiegata da Nicola Palumbo farò una piccola lezione triste di un quarto d'ora farò un Picasso quello che prende le cose e le mette insieme beh come vedete sarà una docente che almeno fa riderissimo oltre alla professionalità oltre alla professionalità che non manca assolutamente quella è la cosa vera io ho visto in sopra e ho detto che spettacolo da profano quindi vuol dire che funziona la tua arte grazie grazie ancora non ci sono arrivata ma arriverò anche alla biennale oltre a diventare anche astronauta e anche papa diciamo già con queste cuffie un po' astronauta sembri effetti sì meno ingombranti non c'è no volevamo proprio fare questo effetto astronauta perché sarà il nuovo payoff dell'istituto tipo design your astronauta anziché your future design your vabbè ho detto troppe cazzate in questa intervista come vedete siamo un po' tipici non siamo un istituto troppo serio ma se pensavate di trovare un insegnante di storia dell'arte insomma un po' anzianotto con i capelli bianchi no 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 DJ set anche DJ set all'inizio della lezione beh fantastica devo dire veramente fantastica grazie bene allora dove possiamo trovare le tue opere dacci un link ah sì scusami io faccio il marketing certo certo allora io ho un sito che è www.elisapietrelli.weebly.com bene allora io vi dico andate lì a vedere che cose paurose che riesce a fare e poi tornate qui ok perché ora facciamo ridere però 5 secondi di serietà è veramente un artista vero un artista vera grazie grazie devo dire un artista vero o un artista vera artista vera vera femminile vera vera bene grazie mille grazie a te ci vediamo ottobre a scuola infatti infatti pronti con il quaderno e la penna per gli appunti bene porto il computer va bene va bene si può fare lo stesso sì no perché io non ho mai preso appunti con la penna sono una persona triste infatti non faccio l'artista scusami tutto no comunque è bello perché era iniziata con tantissimo tipo dio 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 appena ho preso il microfono subito è partita ci rivediamo domani per un flash mob qui davanti all'istituto abbiamo già organizzato tutto bene grazie mille ancora lì ciao grazie a tutti a presto